E rieccoci qui, dai yeee, dopo una missione epica diciamo. Sì, se non ti spiace. Mi prenderò un attimo per riflettere sugli eventi. Va bene, va bene, dai. Complimenti, Corvo. Andiamo a festeggiare. Lunga vita all'imperatrice. Dagli. Hai ucciso qualcuno stanotte? Quanti? Conosciuto come Lorde Regente. Ma che fai io? Sono stanca di avere paura. Da imperatrice saranno gli altri ad avere paura di me. È fatta. Addio a Iran Marlous. Quell'infido pezzo di merda del Lorde Regente è morto. Ora possiamo piegare la legge per assolvere i nostri crimini passati. Troveremo Daud, l'uomo inviato dal Lorde Regente per uccidere l'imperatrice. Così potrai vendicarti. Sberighiamoci a riparare i suoi danni. Le forze armate faranno il loro lavoro. Martin controlla i sacerdoti. E tu, Trevor, fai il tuo dovere in Parlamento, qualunque sia... Chiamami il Lorde Trevor Pendleton. Senza di me non comanderei mai i nobili. Ti faranno a pezzi come un pesce. Scusa, Corvo. Siamo nervosi. Il tuo lavoro è finito. Ora tocca a noi. L'incronazione sarà improvvisa. Ma richiede molti preparativi. Possiamo occuparcene. Ma c'è il problema della sicurezza. Emily potrebbe essere un possibile bersaglio. Dubito che la storia si ripeterà. Ma domani dovrai tenere gli occhi bene aperti. Ha ragione. Riposa. Recupera le forze. Prendi la roba di Piero. Rifornisciti di munizioni e sta pronto. Ah, ancora non è finito. C'abbiamo un'altra missione. Accordo. L'uomo che ha cambiato il corso della storia. A Emily Coldwin. E alla nuova era che sta sorgendo sott'anno nell'impero. Hai impartito a Emily un'educazione spirituale? L'essere di te stesso. Vada, andiamoci a fare acquisti da Piero. Che non c'è. Lo stai, Viero. Piero non lo trovo, porca miseria. Ah, ecco. Appaffan bene. Hai bisogno che assembli qualcosa per te? Oh, perché c'ho queste cose? 300 monete, 300 monete. Allora, a me mi serve. Alla fine ho sottopoco la balestra. Sono molto più ninja. Fuoco e fiamme, fuoco e fiamme. Andiamo a prendere queste rune, va. Sette metri come cavolo ci arrivo là sotto, terra. Ho capito, ho capito. Allora, scendiamo dal pub. Queste piante carnivore, che cavolo so. Ok, una presa. Adesso ne appende anche l'altra. Non, 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 non. Che cosa sto facendo? Che cosa sto facendo? Aiuto! Un bug allucinante! Ok. In qualsiasi interrato, un cane uccide il cane e il denaro cambia padrone. Ok, prese tutte le rune, vediamo un po' cosa posso sviluppare. Vediamo un po' cosa c'è di buono. Allora, ho quattro rune. Questa al massimo, questa al massimo, questa al massimo. Tutti i nemici si trasformano in polvere. Mi piace. Ok, possiamo andare via. Andiamo a farci una bella pennica che... Vi parla quanto strafatto lui. Gli ha fatto male quell'alcol, eh? Murtacci vostra! Ti strunzano! Ricorda, ci serve il corpo. Se potremo esibire il cadavere di colui che ha assassinato l'imperatrice, ci saluteranno come eroi. Sì, ci darà legittimità. Saremo le persone che hanno salvato Emily e abbattuto il Lord Reggente con il suo assassino. Ci farei avere il cadavere, vero Samuel? Va bene. Tutto un completo questo gioco, maledetti bastardi. Non so perché continuo a rischiare la vita per te, ma ti ho dato solo metà del veleno, Corvo. Mi stavano controllando, ma non da vicino. Forse sopravvivrai. Non li biasimo per averti tradito, con tutta la gente che hai massacrato in nome di questa causa. Sono crimini di Stato. Forse credono che sarebbe troppo difficile controllare Emily con te in giro. E potrebbero anche avere ragione. Li ammazzo tutti, li ammazzo. Li lascerò in una barca e cercherò di sparire anch'io prima che mi uccidano nel sonno. Sarebbe la... cosa più logica. Se sarai fortunato ti sveglierai e riuscirai ad andartene da qui. Altrimenti... beh, addio. Grazie. 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 Grazie.